Giuseppe, Giuseppe è tutto per me Che sei una bella dichiarazione, ma Giuseppe quello è molto bello Sì, sì, no più saldi, la gente dice No, più saldi, più saldi Io dico che è una cosa bellissima, perché noi ci troviamo tantissimo Anche se sono più volte che ci litighiamo, che più volte che stiamo pace Che noi durante un mese se non litighiamo 15 giorni è poco Però ragazzi, poi i risultati si vedono Perché noi mettiamo sia il buono che il cattivo su TikTok Lasciate a verde perché è buio Questa è la cosa che si sta parlando di più su TikTok Perché ho messo due o tre video con lei Dopo che io a lei non ci vogliamo bene Noi ci amiamo proprio come persone Il telefono mi ha insegnato marito Perché io ho portato il nome e il cognome di mio nonno Sarebbe suo marito Dato che mio nonno ci manca da 13 anni Io gli do tutto l'affetto che mio nonno gli ha potuto dare più Che bella cosa E questa cosa su TikTok non è andata molto a genio Perché mi fa passare molti sfizi Questo video ha fatto 6 milioni di visualizzazioni E comunque si è parlato troppo di questa cosa Allora io Deve essere dai 6 Io non dai 6 Perché a volte stanno tante Viciariele e viciariele Che ne but Ma non si è abbastanza Ti scorda la propria Io non E la propria Che bella Che bella Che bella Che bella Io non